no non riesco a trovare le parole giuste buongiorno a tutti i ragazzi stamattina non avevo niente da fare me ne sono inventata un'altra come dice mio cugino che è la che compra azioni tesla siamo siamo in officina siamo in officina oggi andremo a montare questo sistema qui che va praticamente dietro al volante ed è un display doppio circolare anzi triplo perché sono tre display che vanno montati sopra il volante quindi dietro il volante e andremo a vedere tutte le varie informazioni dell'auto è molto molto carino si acquista su amazon è facilissimo da montare beh andiamo a vederlo insieme dai ok ragazzi allora la prima cosa da fare è rimuovere la parte bianca quindi prima si rimuovono le due alette che stanno sia a destra che a sinistra poi andremo qui sotto a rimuovere questa parte qui sotto il glove box perché dobbiamo andare a prendere il segnale da qui sotto e poi vediamo il resto una cosa alla volta ciao micchi ciao ecco a 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 vedete è molto molto semplice qui ci sono tutti gli incastri e basta andare ad utilizzare una piccola leva e siete a posto ora da qui noi andiamo praticamente solo ad infilare il cavetto che poi andrà qui sotto e il cavetto è questo qui ovviamente è in dotazione vedete ragazzi avere un cugino elettricista in questi casi è sempre una buona cosa quando si va a togliere il cavo ovviamente lo schermo si spegne quindi non vi preoccupate c'è acceso il monitor no e adesso facciamo la prova del 9 attacchiamo subito il display e andiamo a vedere se funziona dovrebbe spero vai attacca yeah ah che bello wow che bello bene 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 dai 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 quasi fatta adesso ragazzi viene la parte più difficile ossia smontare la parte superiore del volante difficile si fa per dire e abbiamo fatto cose molto più difficili ma molto più difficili per rimuovere il volante basta inserirsi qui dentro fare leva e anche questo è tutto completamente ad incastri facile come bere un bicchiere d'acqua ragazzi no si è rincastrato ok si qua bisogna solo fare un pochino di forza per tirarlo via ragazzi la mossa fondamentale è fare leva di qui dietro qui e qui e poi prenderlo con la mano così e tirare tirare in su e poi o da una parte o dall'altra ci sono questi simpaticissimi bernettini che non si devono rompere noi fortunatamente non ne abbiamo rotto neanche uno abbiamo fatto passare il cavo dentro qui e poi andrà lungo tutta questa parte e si infilerò la in fondo ora per far sì che il cavo passi da sotto che non si deve vedere assolutamente niente abbiamo tirato una piccola cordina da qui fino dietro lo schermo ok 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 ed ecco il risultato adesso bisogna andare a montare la parte diciamo di pelle morbida sul nuovo display ok anche qui ci sono dei piccoli connettori ecco perfetto andiamo a montarlo via qui io metterei anche un piccolo pezzettino di nastro bene micchi fatto eh adesso bisogna spingere dentro i due pernettini a posto ora andiamo a rimontare la plancia tenete ben presente che ci sono tutti i vari connettori quindi dovete stare molto molto attenti a non far passare il cavo all'interno del connettore ragazzi il cavo va fatto passare dietro perché altrimenti non si chiude bene quindi se voi lo fate passare qui dietro siete a posto ragazzi il lavoro è venuto bellissimo sta veramente bene io ero molto ma molto molto scettico l'ho detto anche nel mio gruppo telegram che se non l'avete già iscrivetevi perché rovina un po' il minimalismo di tesla model 3 ma mi devo ricredere mi devo ricredere bene è giunto il momento di provare il nuovo sistema per configurarlo dobbiamo essere in park premete il pulsante del freno schiacciate il joystick e entra nella modalità settings il tema qui può essere cambiato in semplice o classico poi dopo si può anche andare ad aggiornare il sistema quindi arriveranno numerose nuove funzioni la modalità lo mettiamo in automatico formato dell'orario 24 ore la tipologia dei cerchi poi possiamo vabbè c'è o cinese o inglese il time zone nel nostro caso gmt più il colore dell'auto c'è automatico o anche tutti gli altri colori io ho messo blu c'è l'indicatore della carica in alto a sinistra vediamo charge o power questo dipende chiaramente da come andiamo ad utilizzare l'auto quindi se in modalità frenata rigenerativa oppure piglia energia dall'auto come vedete ci indica la velocità consentita su questo tratto di strada che 50 km orari sul display di destra vediamo il contachilometri con una massima velocità di 260 km orari in basso sulla destra vediamo il quanti chilometri residui abbiamo in questo caso abbiamo 312 km sulla sinistra poi vediamo la percentuale di batteria centralmente troviamo la marcia e anche quanti chilometri totali abbiamo fatto se andiamo a mettere le frecce vediamo gli indicatori destra e sinistra se facciamo gli abbaglianti se abbiamo i pari accesi no bello 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 tra l'altro possiamo anche andare ad inserire l'autopilot e ci da informazioni anche sull'autopilot trovo che questo sia l'accessorio più interessante che ho montato fino ad oggi perché colma una mancanza importante di Tesla Model 3 tra l'altro è fatto veramente molto bene è dello stesso colore del display centrale quindi non sembra una cosa messa lì come aftermarket anzi sembra proprio che sia nato così bravi hanno fatto veramente bene se volete acquistarlo lo trovate su Amazon come avete visto l'installazione è molto semplice se avete problemi durante l'installazione potete comunque scrivermi una mail oppure posso montarvelo direttamente io con mio cugino qui abbiamo un'officina che ormai facciamo di tutto e di più come sempre ragazzi io vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine ci vediamo al prossimo video tante altre cose carine da montare quindi stay tuned a presto a presto a presto a presto a presto